Oblivion, siete qui a Monfalcone finalmente, questa sera c'è la prima del vostro spettacolo che si chiama, non adesso non ricordo. Oblivion Rhapsody. Oblivion, è un altro titolo, non c'era? No, perché praticamente fondiamo i brani uno con l'altro, creiamo una rhapsodia, anzi ti dirò di più, proprio oggi siamo riusciti ad allestirlo e questa sera debuttiamo. Proprio oggi? Ah, proprio, cioè avete fatto tutto il lavoro oggi a Monfalcone. Questo bellissimo teatro di Monfalcone che ci ha concesso spazi, tecnici, mascherine, pasticcini, c'è tutto, capito? Tutto, tu vieni a Monfalcone c'è un catering, servizio completo. Infatti invitiamo le compagnie a venire sempre ad allestire a Monfalcone. Pasticcini inclusi, di tutto. Però siamo un po' emozionati stasera, finalmente questo spettacolo, diciamo, con gestazione, tipo, è presente quando c'è un travaglio, non Marco, un travaglio che dura per tanto tempo, poi esce il bambino e dici, ecco, sono emozionato, ma anche finalmente. Esatto. È un po' questa la sensazione, un lungo travaglio e adesso stasera esce. Siamo veramente commossi. Distribuiremo sigari a tutti appena l'ora e venti, perché dura un'ora e venti questo spettacolo, si esaurirà tra gli applausi.